L'Inter quest'anno ha iniziato un progetto a breve e medio periodo, sono cambiati tanti giocatori, si sta concedendo molto spazio ai giovani e nonostante tutto siamo riusciti ad essere competitivi, visto che in questo momento siamo al secondo posto in classifica. Sappiamo che la Juve in questo momento è la squadra più forte in Italia, che ha un progetto iniziato tre anni fa e adesso sta ottenendo buoni risultati, noi dobbiamo continuare a lavorare per continuare questo progetto che ci riporti a vincere in Italia e in Europa. L'Inter deve pensare in grande, ma oggi dobbiamo adattarci al momento generale del mondo e del calcio, non si possono più acquistare gli stessi giocatori di un tempo e dobbiamo lavorare tanto con i giovani sapendo che abbiamo un ottimo divario. Dobbiamo lavorare molto con i giovani sapendo che abbiamo una cantera molto buona.